Salve a tutti ragazzi Sono Inferno86 Sono qui oggi In un mio nuovo video Su Last Day on Earth Survival Sì ragazzi Sono qui oggi In una nuova puntata Esilarante Di questo bellissimo gioco Di sopravvivenza ragazzi Scusate che entro in casa Se no mi ammazzano Oggi sono qui Prima di tutto Per salutare I miei nuovi iscritti ragazzi Perché siamo aumentati Siamo 850 qualcosa Stiamo salendo di brutto ragazzi Grazie a tutti Grazie ai miei infernali Grazie ai miei nuovi infernali Vi adoro a tutti Siete spettacolari Prima di tutto Passiamo ai saluti ragazzi E poi vi parlerò Di quello che voglio fare Allora Inizio col salutare Ai Foxy08 Andrea Harry Freddy Toy Bonnie Fazbear Pizza Mohamed Cardillo DJ Hatti Alessandro Ottavianelli TV Vincenzo Laurentini Paola Stefanini Federico Montagna Senni ZC FP199 Pamela Cardini Bruno Primerano Alessandro Dall'Agata Natrix Danilo Andrea Fagù O Fagò Advance Imug Antonio Agrusa Antonio Capritto E Luca Frost Bene ragazzi Questi qua sono Alcuni miei nuovi iscritti Che si sono iscritti Al mio canale E un paio Che avevo dimenticato Di salutare La volta scorsa Che ogni volta Mi puntano il dito Hai dimenticato Ti sei dimenticato E vabbè Niente ragazzi Io sono qui Vedete Sono armato di pistola Perché Ho visto Su Facebook Che Sulla pagina di Facebook Di Last Day On Heart Survival Che Il Bunker B È di nuovo In uso Quindi Io ho La tessera B E voglio andare A vedere Se Se si può entrare Se si può andare E andremo insieme Ragazzi Vediamo se sono tutto a posto Ho bevuto Ho mangiato O no Mi bevo qualcosa Mi mangio qualcosa E partiamo Ragazzi Io novità Non ne ho fatte Ragazzi Quindi Nella mia base È tutto identico Però Andiamo al Bunker B Ragazzi Andiamo al Bunker B Volevo fare un po' di risorse Prima di fare il video Per fare un po' da mangiare Però vabbè Ho le bende Ho qualche benda Andiamo con la pistola Quindi dovremmo riuscire A farlo lo stesso Sperando che dentro Il Bunker B Non si trovi Una sorpresa inaspettata Quindi Io correrò Alla velocità Della luce Ragazzi E andiamo a vedere Cosa troviamo Nel Bunker B Siccome l'hanno Rinnovato Adesso ragazzi Magari troviamo Qualche mostro nuovo E ci fotte No dai Speriamo che vada Tutto bene Non ho birre Non ho niente Quindi ragazzi Mi spiace Ma se non Al mio personaggio Non gli scappa Di fare i suoi bisogni Mi spiace Ma non riesco a fare le pipi Ma andiamo a vedere Ragazzi Al Bunker B Bunker B Vediamo Cosa hanno fatto Di nuovo Cosa ci sarà mai Dentro il Bunker B Avviciniamoci Piano piano Accesso negato Ma io ho la tessera Wow Apriamo il Bunker B Porco cane Ragazzi Mamma mia Quanti zombie Ragazzi Porco cantante Ne avete visti Quanti erano Mamma mia Chissà cosa c'è Qua dentro Magari troviamo Il serbatoio Della moto Ragazzi Sono uscito E si è bloccato Il gioco Ragazzi Erano troppi E si è incantato Il gioco Vediamo Se parte Se no Aspettate due minuti Ragazzi No È ripartito È ripartito Andiamo Ragazzi Adesso mi mangio Qualcosa Qui Mi mangio Una scatoletta Anche due Sono rimasto In mutande Con la pistola Ragazzi C'ho il pistolone Ragazzi C'ho il pistolone In mano C'ho la pistola Grossa Non il pistolone Non è Non fraintendetemi Ma andiamo A vedere Ragazzi Adesso di riuscire A sparare Tutti i zombie Sperando Che partas Mamma mia Guardate Di quanti sono No ragazzi Se non c'avevo Le bende Morivo Mamma mia Sono tutti Corridori Giganti Ragazzi In ammazzata Dietro l'altra Bene o male Che ho La La pistolina E ne ho ammazzato Qualcuno Però mi ha fatto Un lag Bruttissimo Quindi io Ragazzi Uscirò Un minuto Cambio Connessione Perché sto Anche Scaricando Un gioco Dal pc Quindi Consumo Un po' Troppa Connessione Ma andiamo Scusate Rimanete un attimo In attesa E torno Subito Ragazzi Rieccomi qua Ragazzi Ho cambiato Connessione Ho messo Il 4G Sperando Che non Laga Così Tanto Ho Dimenticato Di mettere Il cibo A curare Ragazzi Sperando Che Siano Tutti Nel Nel Bunker E non Fuori Faccio Una Cosa Agile Anzi Metto Le scatolette Che No Di Più E Mi Mangio Qualche Bacca Ok Ragazzi Sperando Che Non Mi Lagga Ne Ho Ammazzato Solo Uno A me Guardate Quanti Cazzo Sono Usate Io Mi Metto Proprio Qua Vicino Ragazzi Sono Uscito In Tempo Mi Stavano Massacrando Purtroppo Lagga Perché Ci Sono Tanti Zombie Dopo Quando Ci Sono Solamente Giganti Faremo Il Useremo Il Macete Continua Laggare Ragazzi Si blocca Il Caricamento Perché Comunque Userò Le bacche Di Bacco La pistola Ne abbiamo Ancora Caricata Purtroppo Non avevo Vestiti Quindi Non abbiamo Molta difesa Anzi Non ne abbiamo Proprio Però Ragazzi Ce la dobbiamo Fare a tutti I costi Anche se Ho poco Cibo Dobbiamo Riuscire A gestircelo Vediamo Quanti Zombie Ho Ammazzato Uno Uno Solo Si Vabbè Due No No Ma no Ragazzi Ha laggato Tantissimo Ha laggato Tantissimo Bastardi Bastardi Che Merde Che Merde Che Sono Che Merde Meno male Che Forse Riusciamo A tornare Indietro Ragazzi Ce la Dovremmo Fare Mi Prendo Lo Zaino Non Ho Più Da Mangiare Non Ho Più Niente Speriamo Di Trovare Tutto Lì Mi Equipaggerò Lo Zaino Ragazzi Mi Porto Dietro Tutte Le Bacche Che Ho Tutte Le Carote Che Ho Mi Ha Fatto Un Lag Ragazzi Bruttissimo Veramente Mi Prendo Ancora Carote E E Niente Ragazzi Proviamo Ad Vestiti Non Non Niente Non Niente Che Mi Potrebbe Essere Utile Di Pesante Di Vestiti Di Cose Quindi È Un Po Difficile Sopravvivere Ma Ce La Dobbiamo Fare A Tutti I Costi Ragazzi Ritorniamo Lì Ci Dovrebbero Essere Ancora I Mie Materiali Tutto La Mi Arma Ci Deve Essere Per Forza Prima Che Arrivare Qualcuno Ci Fotte Tutto Ma Non Penso Però Spero Che Ci Sia Tutto Tanto Mi Hanno Ucciso Lì All'inizio Quindi Ha Fatto Un Lag Veramente Bruttissimo Speriamo Di Riuscire A Entrare Ragazzi Perché Se no Rimaniamo Fottuti Io Qua Ho Altre Scatolette Mi Prendo Altre Scatolette Qua Ok Sperando Di Ritrovare Tutto Ragazzi Perché Sennò Siamo Nella Merda Siamo Nella Merda Ma Dovrei Ritrovare Tutto Quindi Io Entro Immediatamente E Purtroppo Ci sono Tanti Corridori Del cavolo Inizia La gare Il problema È quello Che inizia La gare Ecco Qua Che c'è Ancora Tutto Mi Che ne Ho Ammazzato Solamente Uno Ragazzi Ok Prendiamo Tutto Prendiamoci Anche Lo Zaino Le Bacche La Pistola Da Qui Piaggiamo E Quelli Le Lasciamo Giù Poi Magari Li Prenderemo Devo Mettermi Mi Metto Le Scatolette Ragazzi Devo Riuscire Ad Ammazzarne Qualcuno Solamente Che Sono Tantissimi Ragazzi Forse Forse Un paio Sono Riusciti A Ammazzarli Vediamo Devo Continuare A fare Così Scusate Ragazzi Ma essendo Nudo Non avendo Protezione Non avendo Niente Devo Purtroppo Fare Così Scusatemi Mi Mangierò Le Carote Che Mi Danno Più Nutrimento La Pistola Ancora Ce l'abbiamo Carica Quindi Entriamo Subito Mamma Mia Ragazzi Che Che Storia Malata Se Riusciamo A fare Così Riusciamo A seccarli Tutti In un Modo Nell'altro Riusciamo A ammazzarli Tutti Cioè Ne ho Ucciso Solamente Uno Quindi Io Direi Rifarci Una Benda Giusto Per Sicurezza Cioè Ma guardate Quanto Cazzo Sono Ragazzi Io Mi Metto Sempre Qua Ok Dovrei Averne Ucciso Qualcuno In più Avete Visto Che Lag Tremendi Che Ci Sono Però Siamo Riusciti A Uscire Proprio Mi Mi Metto Proprio Alla Fine Dello Strato Verde Così Continuo A Uscire E Non Perdo Vita La Pistola È Quasi Finita Quindi Speriamo Di Riuscire A Ammazzare Almeno Tutti I Velociraptor Ok Rientriamo Ragazzi Mamma Mia Ragazzi Questo Questo Qua È Un Puntatone Esagerato Un Puntatone Esagerato Ragazzi Quanto Siamo Forse Per i 20 Sono Riuscito Ad Ammazzarli Ragazzi Vediamo Quanti Ne Ho Ammazzati E Dai Qualcuno Questa Volta L'ho Ammazzato Dai Sì Le corde Te le Puoi Tenere Facciamo Sempre La stessa Tattica Ragazzi Purtroppo Purtroppo Sti Cazzo Di Lag Sono Schifosi Sono Veramente Uno Schifo Questi Lag Qua Lag E Non Riusciamo Ammazzare Non Riusciamo A Fare Un Cavolo Maledetti Forse Un Altro Siamo Riusciti A Ammazzarlo Speriamo Ragazzi Perché È Un Casino È Un Casino Quindi Avete Visto Ragazzi Che Ok Forse Due Siamo Riusciti A Finita Quindi Fra Poco Dovrò Usare Lì Ne Sono Rimasti Ancora Tantissimi Ragazzi Minca Quanti Ce Ne Sono No Sono Uscito Ho Sbagliato Ragazzi Paura Me L'ha Rimasta Solo Una Scatoletta Ho Detto C'è Meglio Che Esco Adesso Metto Le Carote Comunque Sono Riuscito A Ammazzare Gli Altri Due Mi Sembra Mi Metterò Le Carotine Sane Gustosa Magari No Mettiamo Le Carote Ma Che Sono 20 Ormai Siamo Agli Sgoccioli Anche Della Pistola Ragazzi Però Se Riusciamo A Ammazzare Quelli Lì Veloci Poi Gli Altri Ammazzo Con Col Macete Nel Caso Muoio Ragazzi Muoio Vediamo Se Abbiamo Ammazzati Ancora Qualcuno Si Uno Due Forse Siamo Riusciti A Ammazzarli Ragazzi Vediamo Cosa Mi Da Questo Questo Lo Prendiamo Che Magari Ne Troviamo Altri E Ci Facciamo Un'altra Benda Ragazzi Veramente Sono Rimasti Pochi 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 Ci Mettiamo Sempre Qua Sono Uscito Ragazzi Però Quelli Piccolini Diciamo Che Li Ho Uccisi Tutti Ragazzi Se C'è Il Serbatoio Qua Mamma Mia Ragazzi Vita Ce l'ho Mi Metto Ancora Questi Mi Mangio Un Cosa Di Questi La Pistola Mi Io Quasi Quasi La La Mollo E Mi Prendo Il Macete Ragazzi Per Essere Più Sicuri Ok Ragazzi Rientriamo Rientriamo Dentro Brivido Brivido Ragazzi Brivido Ormai Siamo Alla Fine Vediamo Cosa Troviamo Nel 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 Bunker B Bunker B Vediamo Quanti Ne Abbiamo Ammazzati Guarda Lì Che Strage Ragazzi Che Strage Se Avevo La Birra Gli pisciavo Adosso A tutti Cazzo Vediamo Chi è Rimasto Qua I Due Giganti Gigante Grassone Gigante Gigante Grassone Sì Vabbè Siamo Riusciti Ad Ammazzarlo Ragazzi Ammazziamoli Tutti Li abbiamo Ammazzati Tutti 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 Guardiamo Cosa Troviamo Dentro I nostri Armadietti Ragazzi Armadietti Cose Poco Utili Questa La usiamo La benda Così Rivediamo Un altro Spazio Dai Ragazzi Il serbatoio Serve Il serbatoio Vestito Equipaggiamo Scarpe Equipaggiamo E Il resto Lasciamo Giù Ragazzi Cioè Sicuramente Non avranno Messo Un paio Di palle Infatti Un motore Che ci Servirà Dai Vogliamo Qualcosa Di più Interessante La Tanica Ragazzi La Tanica Diciamo Che Mi sta Deludendo E La Peppa Sì Ma Vieni Equipaggiamo Equipaggiamo Buttiamo Via Le Scano Cazzo Separa Butta Via Le Scatolette Buttiamo Via Le Corde E Ci Prendiamo La Nostra Arma I Medikit I Vestiti Tac Tac La scheda F La Butto Ragazzi Tanto Ne ho Già Una Mi Rimangono Due Spazi Dai Serbatoio 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 Un paio Di Palle Questa Ce la Mangiamo Qua Le Scar Ma Cose Ma Perché Mettono Dentro Ste Cose Ragazzi Che Mi Vengo A Piangere Qua Ce n'era Un altro Vediamo Qua Serbatoio 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 Toio Toio Serba Serba Ma Faccio Pirate Ma No Ragazzi Questa E Sfiga Però Questa E Questa E Grandissima Sfiga Però Cioè Non è Possibile Cioè Sono Vestito Da Adesso Mi Metto Questo Ok Così Almeno Quello Mettiamo Giù Che Dura Di Più Vabbè Abbiamo Recuperato I Vestiti Ragazzi La Pistola È Quasi Finita Quindi Io La Butterei E Mi Prendo Le Bende Che Sono Molto Più Utili E Le Scatolette Me Le Mangio La Tessera Cine Ne Ho 20 Ognuno Un'altra Quindi Non me Ne Faccio Niente Pensavo Di Trovare Qualcosa Di Più Succulento Ragazzi Diciamo Che Per Il Lavoro Che Abbiamo Fatto Speravo Di Trovare Qualcosa Di Più Ma Come Sempre Il Gioco Delude 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 Almeno Ci Prendiamo Un po' Di Tessuti Va Ci Prendiamo I Tessuti Facciamoci Un Giro Magari Hanno Aggiunto Qualcosa Esteriormente Un Passaggio Segreto Un Un Paio Di Palle Appesa A un Albero Non C'è Un Cazzo Da Fare Niente Ragazzi Delusione Sì Quattro Vestiti Usati Tutti Distrutti Nient'altro Di Nient'altro Di che Sto cazzo di bunker qua verde Che non Non si aprirà mai Magari io penso che questo qua Si farà esplodere Magari più avanti E niente ragazzi Delusione Delusione Il combattimento è stato bello Guardate che strage qua Guardate che strage che ho fatto Così ora sapete ragazzi Cosa vi trovate nel bunker B Che hanno Regiquittato Quindi Sapete adesso Cosa vi trovate Davanti Io andrò Alla cassa Non ci arrivo Forse sì Camminando Ok Forse ci arrivo E Niente ragazzi Speravo di trovare Qualcosa di più Speravo che Ci davano Il serbatoio Della moto O Un cavolo Di qualcosa Ma invece Ci hanno dato Tutti i materiali A parte la tannica Che ci servirà Per la moto I medikit Ma per il resto I vestiti Tutti I mezzi distrutti Qua è l'M16 Quasi finito Quindi poco niente Ci ha dato Un po' di delusione Però vabbè Ormai il gioco Lo sappiamo Che è questo Niente ragazzi Vi ricordo sempre Di spolliciare Spolliciare Ci sono rimasto un po' male Se sentite la voce giù È perché ci sono rimasto male Speravo di trovare Qualcosa di più Ma vabbè Come sempre Vi ricordo ragazzi Di spolliciare Spolliciare Prima o dopo Ogni mio video Mi raccomando Di condividere Tutti i miei video Sui social Poi vi ridico sempre Se qualcuno vuole essere Salutato nei miei video Scriva sotto I commenti Di questo video Mi saluti Però vi dovete scrivere Ragazzi Se non vi iscrivete Io controllo Se vedo che non ci siete Non vi saluto E E niente Come sempre Saluto tutti i miei Infernali Vi voglio un bene Dell'anima Stiamo diventando Sempre di più Ragazzi unitevi Al gruppo di telegram Se volete essere informati Sui giochi In giochi nuovi Che faccio O volete partecipare A battaglie Su modern strike Online O per qualsiasi cosa Fare amicizia Ricordatevi L'unico e vero Invito E quello che troverete Sotto ogni mio video E niente ragazzi Che dirvi Come sempre Vi ringrazio Per la visione Del video E vi ricordo Di mettermi un mi piace E di iscrivervi Il mio canale Ciao a tutti Al vostro inferno 86 Alla prossima Ciao a tutti